Sono iniziate le attività dello sportello sociale per la pace aperto dal comune di Teramo con l'obiettivo di organizzare una raccolta di tutto il necessario da inviare alle popolazioni e ai territori colpiti dalla guerra. Le attività di raccolta saranno svolte in collaborazione con l'associazione Cherigma, i cui volontari da giorni si trovano sulla linea di confine romeno, dove in un capannone stanno raccogliendo materiale da trasferire al campo profugo in Ucraina e nel locale ospedale pediatrico paralizzato nelle attività per mancanza di risorse sanitarie. Sto rientrando adesso dalla Romania dove abbiamo il nostro campo operativo a Varfu Campolui dove c'è il centro di smistamento, stiamo lavorando alla cremente, abbiamo avuto la fortuna di una serie di canali di autorizzazione attraverso il governatore dell'Ucraina di quella regione vicino alla dogana di Siret per capirci, per il campo profughi spontaneo che si è creato a Cernauzzi. Stiamo facendo tutto il possibile, poco fa è iniziato il carico di tre tir di generi di prima necessità per raggiungere queste persone perché si sono ammassate e non riescono la dogana a smaltire, quindi c'è tantissima calca, bambine, donne, neve, freddo, tende inadeguate, gente che dorme in macchina 4-5 ore, 300 metri di fila alla dogana che si fanno in due giorni, cioè una cosa allucinante. Portiamo via dalla dogana le persone che riescono ad attraversare, le ospitiamo, le rifugliamo, le aiutiamo a proseguire il viaggio. In Romania c'è una voglia di ospitare incredibile, meravigliosa. Io sono stato qualche ora fa, prima di partire lì alla dogana, l'ultima volta il tendone che si era riempito al di qua era svuotato, tutti avevano ospitato qualcuno, tutti erano riusciti a farli partire, quindi è fantastica l'attività svolta in Romania, per il resto no, non ci siamo. I beni necessari sono farmaci, cibo in scatola, lunga conservazione, materassi, coperte, lenzuole e cuscini, tutto va sistemato in scatole ben chiuse con l'indicazione del contenuto. La nostra pagina Facebook Associazione Cherigma con la K è operativa, ricevete lì tutti gli aggiornamenti necessari, c'è anche l'Iban francamente per eventuali donazioni economiche perché noi abbiamo il grosso problema di accumulare roba e oggi cominciamo da oggi pomeriggio dalle 16 circa alla scuola di Viola messa a disposizione dal comune di Teramo, quindi sono contento anche di questa risposta a mettere insieme materiale, ma abbiamo bisogno anche di fondi. Un tir di 12 metri che parte da Teramo per andare a destinazione costa circa 2.500 euro, quindi capite che è una situazione un po' delicata perché se io riesco a mettere tanta roba insieme grazie al vostro contributo e poi non riesco a farla partire, è davvero disastroso. Ho un appello assolutamente in questo ambito, felice di questo avvio della scuola di Viola per raccogliere materiale, io ho bisogno di un capannone, la scuola è troppo piccola per i bisogni di un tir, di due tiri, di tre tir, di quello che riusciremo a mettere insieme, quindi chiunque sia in grado di aiutarci, anche con il comune di Teramo che sta collaborando ad avere un capannone, fatelo urgentemente perché abbiamo bisogno ancora di più spazio, anche se intanto partiamo con questa raccolta lì alla scuola di Viola sopra Villa Mosca verso Castrogno.